Un pomeriggio sera di paura per Carlo Bucirosso. L'attore napoletano avrebbe dovuto esibirsi a Ciregnola nel Foggiano per presentare il suo lavoro teatrale, l'allegro vedovo, scritto ed ininterpretato da lui stesso. Intorno alle 16.32 l'ubicio stampa del teatro pubblico pugliese annunciava il rinvio dell'opera citata per un improvviso valore che aveva colpito l'attore. La notizia circolava immediatamente sui vari siti web e si era creata una preoccupazione più che legittima. Per fortuna intorno alle 20.23 una nuova nota inviata agli organi di informazione dall'ubicio stampa del teatro pubblico pugliese chiariva esattamente il reale motivo del rinvio dovuto a causa di motivi tecnici organizzativi della produzione con nota arrivata direttamente al teatro pubblico pugliese e non per il malure su cui erroneamente era stata data la prima indicazione. Per fortuna situazione risolta nel giro di poche ore sia per l'attore che sta bene che per gli spettatori che si augurano di vedere nella città ovantina presto il suo divertente spettacolo.